Ciao Roberto, ho un'idea rivoluzionaria e cerco qualcuno a cui venderla o che voglia realizzarla. Ricevo tantissimi messaggi di questo tipo, però scordatevelo, non funziona così. Che sia un progetto per una startup innovativa, una fantastica trama per un libro o un business super elitizio, nessuno vuole comprare o mettere a terra l'idea di un altro. Nel mondo non c'è scarsità di intuizioni, per cui un'idea in sé non ha alcun valore e nessuno è disposto a pagare per accapararsi in una che probabilmente è stata già pensata centinaia di volte sul pianeta. Quindi, se pensate che sia davvero buono, dovete essere voi a lavorare su ciò che vi viene in mente per provare a trasformarlo in qualcosa di concreto. Sapendo però che il valore di un progetto sta soltanto per l'1% nello spunto iniziale e per il restante 99% in una cosa che si chiama execution, che molto semplicemente rappresenta la messa in pratica di quell'idea. E dentro ci sono la capacità, l'esperienza, l'approccio e i dettagli unici di ciascuno di noi che servono per poterla realizzare, insieme alla dedizione e alla passione per portarla avanti fino in fondo, superando difficoltà e fallimenti. Perché, come dice Nola Bouchnell, praticamente a tutti mentre fanno la doccia viene in mente un'idea. È la persona che esce dalla doccia, si asciuga e agisce che fa però la differenza.